AHAHAHAHAHAHAHA Bene, come sapete non sappiamo mai starci fermi con le mani appunto e abbiamo fatto una cosa che visto su Kotaku e rimandato ad altri siti solo che non veniva spiegato bene come farla e oggi oltre che dimostrarvi di che si tratta vi mostreremo a fine video il link fatto da noi per la spiegazione di come poter fare quel che state per vedere In poche parole utilizziamo la Master Hand di Super Smash Bros, non accontentandoci di un semplice controller, ma utilizzando il leap motion. L'avete già visto in altri video e anche in questo caso ci servirà appunto per fare la parte della mano. Allora con cosa cominciamo a menare il nostro Pikachu? Un bel pugno da dietro ragazzi, vai! Dato il comando, è seguito in gioco e infatti le ha prese. Ma anziché un cazzotto perché non una bella manata? Vai! Perfetto, l'hai pure missato però! Che merda! E rifalla dai, non si sa mai! Pikachu prendi sta botta per favore, dai! Bam! Perfetto! L'hai missato di nuovo! E che palle però! Invece passa l'artiglieria, magari sparagli un colpo. Posizione della mano. Bam! Perfetto! Dario fai partire il trapano. Bam! Stavolta non l'hai missa, boom! E' fatto fuori direttamente. Però gli mancano altre 97 vite. Cazzo. Invece possiamo anche pocarlo. Nel frattempo hai preso il funghetto, quindi le mazzate saranno ben... Vai! Serie. Bam! 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 Di nuovo nell'acqua. Altre 96. Passiamo invece alla sezione schiaffoni, quindi direttamente a menare, fare la mano come dovrebbe servire. Altro tipo di schiaffo anche. Dai su! Bam! A me stava arrivando. E' a master and reale questa. Eh. Passiamo alle nostre preferite, le ultime due, di cui la camminata. Basta muovere le dita così che ovviamente la mano comincerà a arrivare a fare la schicchera, come si chiama, il colpetto così. E invece l'ultima che ci manca, dobbiamo vedere la nostra lista, è il... Oddio, sono Iron Master and. Iron Master and. Per ultima invece ci lasciamo la più figa di tutte. Vai col raggio. Prendi questo, Pikachu. Pikachu arrostito, menato, seviziato, prese in tutte le salse. E penso che abbiamo finito il nostro campionario di mazzate, praticamente. Perché le altre azioni erano un pochino un casino da mettere. E vi spiegheremo perché. Se volete vedere come realizzare questa cosa con il leap motion, vi basterà cliccare l'immaginetta qui. E abbiamo fatto il tutorial di come, appunto, realizzare, mettere in combo tutte queste cose, che è un mezzo casino, per poter fare quel che alla fine è un'enorme boiata. E' tutto per oggi. Ho fatto nel frattempo le camminate. Nel frattempo le camminate. Beh, giustamente, ci prendi gusto dopo un po'. Noi ci vediamo alla prossima e ciao dalle mani bianche. Ciao! 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 Grazie per la visione!